9 quadri compongono la personale Steering Steel di Alexis Harding, un artista londinese nato nel 1973, che ha già avuto qualche uscita in Italia in passato. Questa è una mostra sistematica, una mini-antologica dei quadri del recente passato. Grazie a tutti. I miei dipinti partono da un'idea che non è del tutto casuale, ma che sfrutta il caso. So come cominciare un dipinto, ma non so come terminarlo. Spero sempre che il processo vada al di là delle mie aspettative e mi sorprenda. E ciò, spesso, significa rendere il dipinto delicato, fragile, più bello possibile. Anche tramite le fenditure, tramite la natura frammentare della pittura, cerco di far sì che il dipinto si aggrappi a un'idea. Voglio che i dipinti siano sia belli che repellenti. C'è sempre una mescolanza. Si tratta, in fondo, di una conversazione tra me e il dipinto. Come hai scritto nel catalogo, Stirring's Still, titolo di un lavoro dell'ultimo Beckett, funziona benissimo come metafora del mio lavoro. Evoca quel momento strano e misterioso in cui la pittura è umida. E dopo giorni e settimane di asciugatura, improvvisamente inizia a cambiare. Oppure sono io a interrompere il processo. Una pittura che si muove continuamente, che è quasi viva, diventa fissa e statica. Uno degli sforzi maggiori del mio lavoro in studio è fermare i dipinti in uno specifico momento, in modo che si leghino a un'idea. E anche se i miei dipinti sono processuali, essi cercano di parlare dell'entropia del corpo. Parlano di una collisione, di una battaglia tra colori ready-made e un uso del colore più artistico, più legato alla tradizione della pittura. Ci sono queste due diverse storie del colore che collidono, ma questa collisione può essere anche una relazione, un'interazione, un dialogo. Mi è entusiasmato leggere il tuo scritto e anche leggere il testo di Beckett, con quella sua natura così frammentaria, con quella sua natura come hai scritto nichilista, ma anche in un certo senso ottimista. I miei dipinti collassano, ma voglio anche che siano energici, sopra le righe e forti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.